questo non è altro che un piccolo e umile pensiero per esprimere il mio sentimento di effetto e stima grazie sicuramente non sarà come la vostra amata telecastero piacerebbe saperla far parte comunque della tua collezione sono certo che non la butterà via e ci mancherebbe grazie non fermarti mai dio ti le dica sempre saluta per favore il nostro amico e ursula francesca antonia grazie ancora con grande forte stima neno francesco da san calogero